Mamma, qua è sempre Cinisello, sì, qua siamo a Serbia, qua è sempre Cinisello, è sempre Cinisello, mamma, che è sempre Cinisello? L'unica cosa è che oggi veramente è stata una giornata sfigata, perché stamattina ero di fretta, mi sono alzato tardi e già da lì per me la giornata è partita male. Secondo, mentre stavo guidando è successa una cosa, ho preso una botta, mi si è staccato un sensore della macchina e mi si è graffiato il cerchione, graffiato per modo di dire, perché vabbè. Ho fatto degli acquisti, poi volevo rendere delle cose e mi è stato detto no, non si possono rendere, noi possiamo farti un buono e quindi mi hanno fatto un buono e ne ho approfittato per iniziare a fare già dei regali di Natale. Ho preso delle cose della casa, insomma ho fatto quello che devo fare, torno traffico e non finisce qui, perché io arrivo a casa dopo che sono stato nel traffico, dopo che ho fatto mille giri, dopo che non avevo le chiavi di casa. Quindi sono dovuto andare da mia nonna per prendere le chiavi e adesso devo fare la valigia che ancora non ho fatto.